Si definisce unica e vera lista antisistema. Pescara presenta candidati al programma Italia Sovrane Popolare, soggetto politico che raggruppa diverse realtà dai comunisti di Marco Rizzo ad Ancora Italia, da Azione Civile, a riconquistare l'Italia. Perché c'è bisogno di ritornare ad applicare interamente la nostra Costituzione come uscita dal 48. Italia Sovrane Popolare ha nel nome il proprio programma. Noi siamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. Tutti questi principi, soprattutto negli ultimi due anni, sono stati calpestati. Non siamo più una vera democrazia perché le decisioni non vengono prese in Parlamento, peraltro ormai è un malcostume quello di decretare con decreti governativi d'urgenza, quindi il Parlamento ratifica semplicemente. Non abbiamo una sovranità perché per colpa della nostra adesione all'Unione Europea e per il servilismo nei confronti degli Stati Uniti le decisioni fondamentali vengono assunte al di fuori del nostro Paese per seguire interessi che non sono nostri, non sono sicuramente dei cittadini e del popolo italiano. E poi il lavoro. La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, ma il lavoro qui non esiste più. Da troppi anni, trent'anni di normative che hanno precarizzato il lavoro, hanno liberalizzato anche un'imposizione fiscale che si è abbattuta sul cedo medio. Non ci sono reali sostegni anche in queste situazioni di difficoltà, quindi bisogna ritornare proprio a partire dall'articolo 1 della nostra Costituzione e riportare certi argomenti veramente in Parlamento per fare diventare politiche norme, quindi politiche concrete. Gianluca Baldini è il candidato all'Uninominale Senato. Nel proporzionale ci sono Antonio Felice, Stefania De Leonibus e Giuseppe Redondi. Nobile dell'Orefice, Lorenzo Donofrio e Daniela Franciosi, rispettivamente nei collegi Camera Chieti, Pescara Teramo e L'Aquila Teramo. Mentre in lista proporzionale ci sono Giovanna Corricciati, Lorenzo Donofrio, Paola Piccone e Umberto Mariani. Noi siamo molto fiduciosi perché abbiamo visto una risposta al nostro appello per la raccolta firme che è stata veramente eclatante. Qui in Abruzzo addirittura abbiamo raccolto le firme necessarie nel numero minimo in soli due giorni. Ma anche in tutto il territorio nazionale noi siamo riusciti a presentarci in tutti i collegi, in tutti i 49 collegi e quindi abbiamo, crediamo, ottime possibilità non solo di superare lo sbarramento del 3% ma anche di arrivare molto oltre.